Ma come in questo momento, è importante e fondamentale insegnare alle nuove generazioni, ai bambini piccoli anche, l'importanza del rispetto della natura e degli animali. Lo sanno bene all'azienda agricola Magenzani, che al boschetto da anni punta tutto sul rapporto bambino-natura per farlo crescere nel pieno amore per il verde e per gli abitanti del pianeta. Il 5 aprile prenderà il via una serie di appuntamenti, sette per la precisione, per i bambini tra i 4 e gli 8 anni, che verranno condotti alla scoperta della natura. Ci sarà un atelier dedicato agli animali, quindi prendersi cura degli animali, ma anche un laboratorio dedicato all'orto, quindi come costruire l'orto, che cosa si può seminare nell'orto, che attrezzi si utilizzeranno nell'orto, ma anche esperienze tutte nuove, riferite alla natura proprio. Ci sarà un'esperienza in cui verranno utilizzati anche strumenti tecnologici, ma anche un atelier tutto nuovo sull'acqua, proprio per dare importanza all'acqua come fonte di energia rinnovabile. Agri Atelier Natura è il titolo del progetto, che mette al centro dunque il rispetto della natura. Domani alle 10 i bambini della Grenido del Boschetto, i più grandi, andranno a vedere come crescono gli alberi da loro piantati al Parco Romulo Crotti il 19 novembre scorso e faranno merenda in mezzo al verde, sulle panchine che sabato sono state donate alla comunità dal Lions Club Cremona. Allora, per noi fin da ormai 10 anni la natura è un elemento molto, molto fondamentale. Per noi è una grande potenza educativa per i bambini e anche conoscitiva, perché tramite la natura abbiamo capito che il bambino può apprendere tantissime cose.